Io mi chiamo Carolina Battaglia. Io Matteo Battaglia. E veniamo da Bassano. Mi chiamo Alisa Zanello e ho 11 anni. No, Santoni, 14 anni. Vittimona e io sto qui. Chiara, 15 anni. E Federico, 14. Mi chiamo Carolina e vengo da Toscola. Mi chiamo Guido e vengo da Toscola. Io ho Timone. Siamo cugini. Diciamo che spesso litighiamo, però poi risolviamo subito e andiamo avanti. Sì, infatti. In alcuni fratti bello, perché comunque magari sono persone che non conosci tanto bene, quindi hai la possibilità di farti degli amici e conoscere più persone. Dall'altra invece si possono avere idee discordanti, come noi due abbiamo. Infatti finiamo spesso per avvolte, batti e beccare un po'. Ci sono più gossip. La cosa bella è che è più divertente perché sei in due e la cosa difficile è perché per noi ci sono insieme, eccetera. Cioè io provo a dirgli qualcosa e le si ne posisce subito, quindi siamo un po' tutte e due. La bella è che si può stare più insieme, cioè puoi fare nuove bucizie e vedi la cosa brutta e è difficile insomma lavorare insieme con le decisioni. Grazie a tutti.